Adesso lo do la parola al comandante Sergio Di Caprio, che molti conoscono come capitano ultimo. Il 15 gennaio del 1993 ha arrestato Totò Riina e da quel momento in poi la sua identità è segreta. Grazie. Grazie, grazie per questo applauso. Da due mesi, però questo invece non lo sanno e lo diciamo, da due mesi il comandante Di Caprio è anche un collega sindacalista, perché da due mesi è nato il SIM, che è il primo sindacato dei Carabinieri, il primo e l'unico della storia, della lunga storia dell'arma dei Carabinieri. E quindi questa sera, questo pomeriggio, interviene come un collega dei sindacalisti della CISL. Allora le chiedo di parlare di questo, perché nell'arma dei Carabinieri, che svolge una funzione preziosissima, non soltanto dal punto repressivo, ma anche dal punto di vista sociale, che in questa stagione in cui si parla molto di sicurezza, una idea di sicurezza che finisce per creare le premesse di nuove tensioni, perché all'interno dell'arma si è sentito il bisogno di creare un strumento solidarista per eccellenza come il sindacato e come si può svolgere un'idea di sicurezza proprio a partire dall'esperienza concreta di chi per mestiere, per lavoro, per missione, per senso del dovere, con un sacrificio personale altissimo, mantiene l'ordine e la sicurezza nelle nostre città, nei nostri paesi, nei nostri comuni, nei nostri quartieri, sente anche il bisogno di fare un passo in più, cioè sente anche il bisogno di avere una rappresentanza solidarista. Prego. Sì, per me è un grande onore essere qua, chiedo scusa se sto anche qua davanti a voi e non sto dove devono stare i carabinieri, cioè alle spalle e ai margini, ma per me e per il sindacato che rappresento è un momento importantissimo. Noi ci siamo costituiti come ovviamente un sindacato, come una società di mutuo soccorso e di resistenza, come tutti i sindacati, sono banale nel dire questo, ma queste parole vanno praticate. Queste parole sono importanti perché ci fanno capire quali sono i meccanismi della sicurezza. Noi come sindacato immaginiamo una sicurezza non più come interesse dello Stato a garantire la disciplina all'interno di più o meno definiti confini, ma come bene comune di tutti i cittadini. Questo bene comune si costruisce, non si impone, si costruisce con le famiglie, si costruisce nelle parrocchie, in una comunità che si riappropria di questo bene. E noi come carabinieri abbiamo il compito di rendere conto e dare spiegazioni di quello che facciamo o magari di quello che non facciamo, perché sulla sicurezza non si può fare una propaganda, non si può fare una manipolazione. La sicurezza è del popolo ed è una sicurezza che impone la partecipazione, non si può delegare come l'amore nelle famiglie, non si può dare per scontato, si conquista giorno per giorno, si combatte, perché dandolo per scontato poi ci svegliamo un giorno e ci troviamo esclusi, abbandonati, soli, sopraffatti. Allora noi ci siamo posti e ci poniamo a disposizione dei sindaci, degli eletti del popolo, dei presidenti di municipio. Come consulenti tecnici abbiamo fatto anche una convenzione con l'Anci e noi ci offriamo gratuitamente, proprio perché mutuo soccorso, un dono al nostro popolo, in modo che sulla sicurezza possiamo dare strumenti di linguaggio, di competenza, affinché nessuna autorità possa prevaricare, possa sfruttare, possa nascondere agli eletti del popolo, cioè ai cittadini, quella che è la realtà. E affrontare così il disagio da cui nasce ogni illegalità, da cui nasce la forza delle grandi organizzazioni criminali. E dobbiamo stare sulla periferia, perché noi, perché tutto il mondo è una periferia, perché non vogliamo che esistano le periferie. È una parola che vogliamo, così, cancellarla. E nelle periferie, sulla frontiera, dove tutte le cose sono vere, dove non c'è finzione, lì c'è la comunità. Ma ci deve essere. Dobbiamo combattere per una legge che è uguaglianza e fratellanza. E dobbiamo anche essere fieri che queste parole, uguaglianza e fratellanza, le ha dette uno che si chiamava Gesù. Ed è importante, perché l'ha fatto come un dono, al di là della fede. E su quel pensiero si sono costruite delle comunità umili, povere, che dicevano una cosa banale, dicevano questi si spogliano di quello che hanno, lo vendono, raccolgono il ricavato, lo portano ai piedi degli apostoli e chiedo perdono al padre. E lo ridistribuiscono secondo il bisogno di ciascuno. E questi, con questo meccanismo, hanno abbattuto l'impero romano. Perché hanno dimostrato che la comunità è forza. La comunità è la vera legge, è l'unica legge. E l'uguaglianza e la fratellanza sono l'arma più strategica che esiste. Ridicoli quegli altri che contrappongono a questo il potere dei soldi, dell'opportunismo. Ma questi hanno abbattuto l'impero romano. E l'hanno abbattuto. E' inutile che lo teniamo marginale nei libri di storia, questo meccanismo. Ma lo sappiamo bene. E lo dobbiamo ribadire con i ragazzi più piccoli, con i nostri ragazzi. Perché questa è la forza. Per questo li bruciavano, li facevano mangiare da leoni. Non perché credevano, avevano una fede. Perché praticavano l'uguaglianza e la fratellanza. Si aiutavano. Non escludevano nessuno. Soprattutto quelli incapaci, quelli ingrati. Li tenevano con sé. E questa è la rivoluzione possibile. Ma è una vecchia rivoluzione. Allora, su questa strada noi ci saremo. Come? Con il dono. Perché è tutta la nostra vita. Grazie. 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 Grazie.